Se ne è parlato a lungo di questa produzione italo-inglese di grande rilievo che è stata girata nelle colline toscane. Sto parlando ovviamente dei Medici che debutterà il prossimo 17 ottobre su Rai 1. La serie è stata pensata per un mercato internazionale, sulla scia di successo come i Borgia, Game of Thrones o Marco Polo. La trama è incentrata su una delle famiglie più controverse e affascinanti della storia italiana, Cosimo de' Medici e Richard Madden, ovviamente Rob Stark di Game of Thrones appunto. Ambientata nella Firenze del XV secolo, l'uomo deve combattere per portare avanti le sue idee, tutto ciò confrontandosi contro i suoi oppositori e cercando di affrontare anche le conseguenze della morte del papà, interpretato dal grande Dusty Hoffman. Dal punto di vista tecnico troviamo uno squadrone d'esperienza. Alla regia troviamo Sergio Mimica Ghizan, navigato nella tv di serie di successo come Prison Break, Heroes o i Pilastri della Terra. In più è stato anche assistente alla regia di numerosi film di Spielberg, mentre i creatori della serie sono Frank Spotnitz e Nicholas Meyer, anche loro con un bagaglio invidiabile di lavori. Qualche tempo fa è uscito il trailer che preannunciava l'inizio della serie. La messa in onda è stato qualche dubbio da parte di pubblico e critica, un po' per via del doppiaggio, della qualità dell'immagine e della scelta delle scene usate per presentarla. Soltanto la visione della serie, purtroppo visto che di materiale ce n'è ben poco, potrà dirci se il lavoro che hanno fatto avrà dato i suoi frutti. Il cast è ricco, la crew anche, e poi c'è la meravigliosa Firenze. Non può esserlo, sfacelo, su, via! La coppia Dustin Hoffman e Richard Madden promette bene. Voi cosa vi aspettate dalla serie? Fateci sapere cosa ne pensate nei commenti qui sotto e io vi ricordo di seguire sempre Screen Week per essere aggiornati sul mondo del cinema. Noi ci vediamo al prossimo frame, ciao!